we bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video e allora ragazzi eccoci qua finalmente con l'armadietto adesso io non resto qui a farvi vedere tutte le skin una per una perché dai sono veramente tantissime lo sapete quante sono ragazzi sono esattamente mille skin oh my god mille skin 733 backpack 391 picconi 289 deltaplani 86 scie 423 balli e 332 coperture sono permesso ragazzi però di farvi vedere le chicche dai le cose più rare quelle che non escono nel negozio da tantissimo partiamo dalle prime per poi arrivare in una top five veramente meravigliosa l'assassino aerobico ragazzi eccolo qui è tantissimo che non esce ben 607 giorni l'ultima volta l'abbiamo vista il 16 ottobre 2019 una delle punte di diamante dell'armadietto ma andando avanti il distruttore degli abissi ragazzi oh my god forse alcuni di voi se lo ricorderanno eccolo qui questo è proprio lui distruttore degli abissi bellissimo intanto l'effetto tutto molto bronzato con addirittura un backpack sempre in movimento lui non esce da 675 giorni era in lontano 9 agosto 2019 e il piccone invece il kraken ascia e tra l'altro come vi dicevo c'è anche la dominatrice degli abissi che è la sua controparte femminile lei addirittura non esce da 728 giorni è tantissimo era in lontano 17 giugno 2019 andiamo più avanti freestyle qualcuno di voi forse se la ricorda questa qui ragazzi veniva fuori da sola così senza piccone senza backpack senza deltaplano ed è uscita l'ultima volta il 10 ottobre 2019 stiamo parlando ragazzi di 613 giorni fa molto molto carina peccato un pochettino per queste cuffie che sono enormi rispetto alla skin però secondo me ci sta un botto ombra ragazzi oh mio dio non esce da 558 giorni anche qui era il 4 dicembre del 2019 ha degli stili personalizzati come sappiamo si può mettere con il casco bellissimo intanto fa parte del set cobra o addirittura con questo colore verde metallizzato che io personalmente preferisco tantissimo andiamo avanti perché c'è lo sciamano io non ne ho mai visto uno di sciamano in giro ragazzi 560 giorni per questa skin che veniva fuori con un'altra skin sciamano ragazzi non esce da 560 giorni era il 2 dicembre 2019 il suo piccone purtroppo non ce l'ho ma ho il suo backpack e ho anche ovviamente la sua parte femminile lo specialista della brozzatura ragazzi è una skin leggendaria ed è tantissimo che non esce 655 giorni e quanti di voi hanno visto invece questo io personalmente non me lo ricordavo neanche assioma ragazzi 713 giorni che manca dal negozio era il 2 giugno 2019 non so come faccio ad avere tutto il set perché veniva fuori con commissione il suo backpack e a parte ovviamente il deltaplano che si chiama disturbatore molto particolare molto strano ma una skin davvero che non si vede spesso assioma tanta tanta roba si passa subito a un'altra skin cyborg si chiama cheaper o shipper ora non saprei bene come pronunciarla 752 giorni che manca dal negozio usciva con un set completo l'ultima volta che l'abbiamo vista è stata il 24 maggio 2019 avanti perché si passa a zona pericolo 619 giorni per questa skin proseguiamo con abbaglio mamma mia ragazzi mamma mia abbaglio praticamente è una skin che anche lei ha la parte maschile che si chiama iperion che non esce tipo da 800 20 giorni oddio mi stavo per soffocare era troppo esagerato abbaglio non esce invece da 600 ragazzi era il 23 ottobre 2019 una skin invece molto più conosciuta è quella del demo gorgone voi direte come il demo gorgone eh sì ragazzi il demo gorgone che usciva con il set di stranger things e c'era anche incluso la sua copertura non esce da 586 giorni era il 6 novembre 2019 la skin che ha come particolarità quella di aprirsi frullio ragazzi 624 giorni una specie di fatina un pochettino più grande era il 29 settembre 2019 ragazzi l'infiltratore 683 giorni che manca dal negozio era il primo agosto 2019 l'ultimo giorno in cui è stato presentato nello shop poi non si è più visto ne abbiamo alcuni simili ma non sono l'infiltratore molto molto caruccio a me ricorda la parte oggi di fortnite non so perché ma mi ricorda le skin vecchie season 8 invece estate di due anni fa dove uscì marino bella questa skin la presero tutti un po' in giro come backpack ha tre banane infilate così e la borraccia marino invece non esce da 726 giorni era il 19 giugno 2019 con tutto il suo set per fortuna lo abbiamo tutto taglio fresco si chiama il piccone mentre appunto il backpack si chiama semplicemente porta banane molto molto caruccio e per chi si ricorda le prime tre season di fortnite non potrà dimenticare il sergente decorato una delle skin iconiche appunto della season 3 capitolo 1 ragazzi il sergente decorato non esce da 755 giorni è un'infinità era il 21 maggio 2019 lui non aveva backpack non aveva picconi non aveva delta planeo era semplicemente una skin così e sono molto molto contento di averla perché mi piace un casino altre skin un pochettino più particolari ragazzi sledge chi l'ha mai visto io personalmente non me lo ricordavo neanche 649 giorni era il 4 settembre 2019 sembra una specie di soldato tutto bello tappato con il suo backpack che si chiama fortezza e la lama a impatto il suo piccone tutto molto figo tutto molto soldatesco tanta tanta roba passiamo a vector e non sono ancora nella top 5 era il 4 settembre 2019 e 19 molto molto curioso è quasi quasi c'entra con la season 7 del capitolo 2 molto molto figo passiamo a due delle mie skin preferite fanno entrambe parte dell'unico set che si chiama dominatori dell'aria tipo franginubi è la parte maschile è praticamente un avviatore degli anni che furono 780 giorni ma come vi dicevo insieme a franginubi c'è coda di rondine che è assurdo anche lei 648 giorni che manca dal negozio bellissima davvero tanta tanta roba un'eleganza incredibile era il 5 settembre 2010 andiamo avanti perché la gente anarchico non lo si vede da 575 giorni e non è finita lui bello tutto tatuato con la sua cresta azzurra occhialazzo ma la cosa veramente bella di questo set non è tanto la skin che è uscita 5 volte ma è il deltaplano il deltaplano ragazzi veniva venduto ovviamente separatamente ed è uscito un'unica volta era il primo agosto 2019 da lì non si è più visto sono passati 683 giorni ed è veramente una fortuna per me averlo io non ricordavo neanche di averlo col ragazzi 554 giorni è uscito l'ultima volta l'8 dicembre 2019 non ha backpack non ha picconi non ha scie è semplicemente un minatore ed è uscito pochissime volte molto molto bello caduta mortale ragazzi oh my god questo fa parte di un set di quattro skin io le ho tutte e quattro vediamo se riesco a farvi vedere al volo eccole qui ragazzi tutte e quattro le skin e loro sono usciti un'unica volta 621 giorni fa era il 2 ottobre 2019 davvero bello un set completo uscito una volta sola secondo me molto molto interessante e di una certa rarità il surgeon griller ragazzi 637 giorni che non si vede una skin che era uscita nel capitolo uno per sbaglio io l'avevo comprata poi ci avevano ridato i v bucks perché poi la fecero uscire due settimane dopo era il 16 settembre 2019 l'ultima volta che si è vista il pattugliatore oddio come si chiama il pattugliatore pungente ragazzi dovremmo stare sui 600 giorni o 580 una cosa del genere una skin femminile uscita se non ricordo male nella season 8 quindi anche questa di estate di due anni fa veniva fuori con il suo ascia puntura molto molto caruccia e sicuramente date un'occhiata se ce l'avete anche voi perché potreste avere una skin abbastanza rara garrison ragazzi 571 giorni che manca dal negozio un veterano ovviamente dell'esercito bellissimo il basco con dei fregi davvero interessanti l'ultima volta che abbiamo visto garrison era il 21 novembre del 2019 adesso passiamo ragazzi all'elite alle cose più interessanti che sono le prime cinque a partire da spina dorsale ragazzi non lo chiamiamo culio non lo chiamiamo ma lui si chiama spina dorsale e l'abbiamo visto l'ultima volta 837 giorni fa è uscito per due volte ed era il lontanissimo 28 febbraio 2018 usciva con il suo backpack bellissimo anche il ciondolo con il lo stivale attaccati le chiavi a tubo e le chiavi inglesi e la cosa veramente interessante è il suo deltaplano il suo piccone che io purtroppo non ho quindi è un manubrio della moto il piccone mentre il deltaplano ha sopra un teschio che completerebbero completerebbero il set vi fermo un secondo perché oltre alle skin volevo farvi vedere due balletti che non escono da una vita il primo è il turbolento che non esce da 945 giorni raga era il 12 novembre 2018 e poi il ballo hot marat che non esce da 932 giorni era il 25 novembre 2018 ora io non ho guardato la rarità di tutti i balli che ho personalmente questi due mi sono saltati all'occhio in una classifica che ho cercato fortunatamente li avevo e quindi li ho condivisi con voi il signore della ruggine non ci interessa non ci interessa nulla di questo set se non il secchio di ruggine ragazzi questo backpack è davvero rarissimo e non esce da 1152 giorni era ragazzi il 19 aprile 2000 2018 oh my god più di tre anni fa lo ottenemmo perché il 18 aprile 2018 fortnite ebbe un crash i server esplosero e per 24 ore non si poteva giocare a fortnite al rientro quindi il giorno dopo ci diedero il backpack del signore della ruggine quindi se lo avete ragazzi tanta tanta roba e andiamo nella top 4 ragazzi l'agente ribelle lo conoscete benissimo anche voi sono mille e tre giorni che manca dal negozio se non ricordo male l'agente ribelle è stata l'unica skin che hanno spostato dal pagamento in euro ok al pagamento in v bucks quindi è uscita un'unica volta ed era il 15 settembre del 2018 agente ribelle che viene fuori con il suo backpack precisione vanga tattica il piccone e il suo deltaplano che si chiama carbonio tanta tanta roba e poi ragazzi siamo alla top 3 non sto parlando di spaziale che è la skin che tra l'altro è uscita un paio di mesi fa dopo un bel po di tempo ma sto parlando del piccone il ritmo di tamburi ragazzi questo piccone non esce da 1015 giorni era il lontano 3 settembre 2018 purtroppo lo stesso giorno usci anche il deltaplano che a me personalmente manca ed è bellissimo perché è tutto colorato con una spirale non capisco perché mi dicano che nome in codice elf non esca da un bel po di tempo quindi sinceramente io me la tengo lì mi risembra che due anni fa abbiano fatto uscire codename elf ma quello che vi volevo far vedere di questo set ragazzi è il maco uno delle mie punte di diamante della collezione appunto che ho maco parliamo ovviamente della season 1 del capitolo 1 è una cosa che veramente hanno in pochissimi che è super super ricercato non so se il numero sia uguale per tutti oppure no dovrei dovrei indagare ma comunque tanta tanta roba e per terminare dovrei aver terminato quella che penso sia la skin più rara in assoluto della mia collezione che è double elix il primo pack di nintendo switch che venne venduto a tiratura limitatissima ragazzi questo lo hanno davvero in pochissimi e chi ce l'ha sappia che ha una skin veramente molto rara double elix che usciva con telemetria il suo backpack localizzazione il suo piccone e per terminare rotore insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video questo era un piccolo assaggio dell'armadietto dopo due anni di full shop una cosa incredibile però vi dico una cosa se vi è piaciuto questo video lasciate un like e se superiamo i 5000 like io mi organizzo per preparare anche il video dei balli più rari del gioco noi ci vediamo ovviamente in live su tutti con fortnite ciao